recensito in giardino ciao a tutti e bentornati a recensito in giardino oggi presentiamo la macchina raserva professionale green il modello lpm 53 pro instart monta un sistema di taglio green tagli non raccogli e non va in discarica perché l'erba viene sminuzzata finemente e rilasciata sul terreno questo rasa erba monta un motore bridge stratton della serie 850 è un 190 cm3 cilindrata e monta appunto come dicevamo l'instart che è questo sistema ad avviamento elettrico non avete più bisogno della fune ma vi basterà semplicemente premere questo interruttore per poter far avviare la macchina facciamo una panoramica del degli accessori di questa di questo rasa erba sulla sinistra avete la leva rossa che è il sistema di sicurezza per l'avviamento del motore quindi quando viene rilasciato il motore si spegne automaticamente mentre sulla parte destra abbiamo questa leva gialla che regola la trazione una trazione a doppia velocità quindi avete la velocità 1 e la velocità 2 se volete andare più veloci questa macchina rasa erba come vedete monta delle ruote grip green sono delle ruote larghe dentellate per aumentare il grip su qualsiasi tipo di terreno e monta all'interno un doppio cuscinetto a sfera scendendo verso il corpo motore abbiamo il sistema in start appunto questa batteria ha gli ioni di litio che serve appunto per l'avviamento quindi con questa batteria qua voi la inserite all'interno della slitta fate scattare i bottoni e la vostra macchina è pronta per per partire con una carica piena della batteria fate circa una cinquantina di avviamenti come dicevamo prima il sistema di taglio green rilascia l'erba sul terreno quindi non avete più bisogno del cesto perché appunto l'erba viene sminuzzata in maniera molto 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 fine e viene rilasciata sul sul terreno la scocca è 53 centimetri di taglio e soprattutto voi potete regolare l'altezza di taglio con una sola leva centralizzata quindi semplicemente muovendo questa leva qua andate a sollevare tutte quattro le ruote contemporaneamente quindi non avete bisogno di andare ad agire sul sulle singole ruote avete quattro altezze differente e potete scegliere in base all'altezza del vostro prato e in base alla stagione all'interno del piatto troviamo sotto la lama e questa calotta rinforzata in acciaio in acciaio verniciato questa macchina adatta sia per i tagli di prati per le manutenzioni che anche per le per le per le erbe e quelle situazioni anche più impegnative comunque di cosa una macchina che se la cava in tutte le le situazioni ha un cono salvamotore di serie e il peso a secco di questa macchina è di circa 41 chilogrammi ora andiamo a vedere come funziona all'opera ricordatevi sempre di utilizzare i dpi eccoci come avete visto è il lavoro che è stato fatto è stato soltanto su questa piccola porzione di giardino è comunque una macchina professionale per grandi superfici ma si è compartato in maniera eccezionale anche su questa piccola superficie una cosa molto interessante è vedere che sul prato non ci sono pressoché residui dell'erba tagliata perché è stata sminuzzata in maniera talmente fine che poi verrà riassorbita immediatamente dal prato un'altra cosa molto interessante di questa macchina qui sono queste due leve che permettono di riporre e trasportare la macchina senza occupare troppo spazio inoltre questa posizione qui vi servirà anche per controllare lo stato del del piatto come vedete il residuo che è rimasto qui risulta essere molto 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 fine oggi è una giornata molto umida quindi è rimasta appiccicata sul bordo per ragioni ovvie però vedete come i residui che rimangono sono stati sminuzzati in maniera molto 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 fine sempre grazie alle vostre leve voi potete riposizionare il manubrio nella posizione e siete pronti per utilizzarla di nuovo grazie a tutti e alla prossima recensione grazie a tutti grazie a tutti